Nella provviccia dell'Aquila aumentano le rapine, ma complessivamente calano i furti e tutte le fattispecie di reato. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'attività operativa della Questura dell'Aquila e dei commissariati di polizia di Avezzano e Sulmona presentato nel capoluogo abruzzese in occasione della tradizionale festa del corpo. Il periodo preso in considerazione dal dossier va dal mese di giugno 2014 al maggio 2015. Secondo i dati riportati dalle tabelle, sono scesi il numero delle persone arrestate e denunciate, nonché quello delle infrazioni al codice della strada, degli incidenti e delle patenti ritirate. Un risultato, hanno commentato i vertici della polizia, frutto anche dell'aumentata attività di pattugliamento e controllo del territorio. In questo quadro, l'unico indicatore con segno positivo è quello riguardante le rapine. Questo tipo di reato, stando alle cifre, è raddoppiato. In un anno gli episodi sono passati da 31 a 61. I dati relativi alla provincia dell'Aquila seguono così il trend regionale e nazionale, che parla di una diminuzione dei reati contro le persone e di un aumento di quelli contro il patrimonio, in particolare dei furti nelle abitazioni. Questa tendenza genera, rilevano le fonti dei corpi di polizia, una maggiore insicurezza da parte della popolazione, che sta perdendo fiducia nella capacità dello Stato di assicurare protezione.